Presidente Conte, le spiego la differenza. Dopo il disastro di Dunkirk, Churchill si è assunto la responsabilità. Dopo il disastro di Stalingrado, Hitler ha dato la colpa ai suoi soldati. Dopo il disastro di Caporetto, Cadorna ha dato la colpa ai suoi soldati. Un capo si assume la responsabilità. Noi in questo momento abbiamo bisogno di un capo, ne abbiamo un bisogno disperato, perché abbiamo questo virus che non si sa che cosa sia. Potrebbe anche essere poco più di un'influenza, mi auguro di sì, comunque non ne abbiamo ancora ben capito. E soprattutto abbiamo un'economia che già stava barcollando e che adesso, negli ultimi giorni, è stata completamente distrutta. Lei ha capito che i giornali esteri titolano che gli italiani ammettono che un loro ospedale ha messo in circolo il virus, un nostro ospedale ha messo in circolo il virus, un nostro ospedale può aver tardato qualche giorno a fare la diagnosi perché non aveva il kit. Quindi si assuma la responsabilità. Noi in questo momento abbiamo bisogno di un capo che si assuma la responsabilità, che magari ci prometta lacrime e sangue, ma che ci giuri che ci tirerà fuori da questo pantano e da questo pantano ci tira fuori solo un capo che si assuma la responsabilità. Quindi lei no. La prego, se ne vada. Se ne vada non solo nel senso di dare dimissioni. Se ne vada, mi dicono che tra le sue poche doti c'è la capacità di parlare un magnifico inglese. Bene. Le faranno fare 15 giorni di quarantena, probabilmente 21, ma poi vedrà, le lasceranno entrare. Presidente Conte, vada.